Ciao, sono Fabrizio Di Mascio. Sono un membro del staff di insegnamento del programma del Master's Degree in Digital Skills for Sustainable Societal Transition. Questo programma è un programma interuniversità inter-università, interno offerto da Politecnico di Torino e da Università di Torino. Sono un professore di scienza politica a D.I.S.T., l'inter-università inter-università di studi e planificazione regionale e regionale. Questo programma rappresenta la struzione unica struttura dell'Università e del Politecnico che funziona nelle aree scientifici che studiano la trasformazione dei processi di governanza regionale e urbana. In particolare, questo department si tratta con le funzioni delle transizioni post-carbonate che rispondono ai molti problemi del cambiamento climatico. Il programma del Master's Degree in Digital Skills for Sustainable Societal Transition Si tratta con l'esperienza del D.I.S.T. nella investigazione delle pratiche per il gestione di gestione di gestione dei territori sostenibili. La natura inter-università del programma del Master's Degree in Inter-Università di questo programma del Master's Degree che accorre la uscita dei dati, si viene progressivamente a maturità per la deployazione di scala di scala e si impacta la economia e le società mondialmente. Le tecnologie digitale promuovano modelli nuovi business, si necessitano nuove sfide e si chiedono per un'entrazione rinnovata del mondo in cui viviamo. Questo programma del Master's Degree trains i esperti digitali in un ambiente di studi che offre una combinazione multidisciplinaria combinazione di corsi, con l'obiettivo di proporzionare capacità analitica sui diversi domani, da ingegneria a scienze sociali e umanità. Con una combinazione di luci interattive, seminari pratici e internazioni, i studenti apprendono dei nuovi processi linkati a nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e il aprendo di macchina, i big data e analitica, l'Internet of Things, l'computazione di clown, la manufattura digitale e i media sociali. In particolare, il programma si concentra sull'interplazio tra le dimensioni spatiali e tecnologiche dei processi di governanza per sostenere un approccio di centri e di holistica alla trasformazione digitale. Da questa perspectiva, le opportunità che svolgono dalla trasformazione digitale sono capite come strumenti per ottenere i diversi effetti di sviluppo e sostenibile, invece di percepire la digitalizzazione in itself come l'ultimo obiettivo. La maggior parte dei corsi hanno un formato seminario, il significato di lavoro di gruppo, le presentazioni e le discussioni supervisate dai lettori di corso che sono riconosciuti internazionalmente come esperti nel loro campo. Il formato seminario offre gli studenti con le competenze clave che sono necessarie per supportare le iniziative di trasformazione digitale, come il risultato di problemi complessi, il pensamento critico, le esperienze interpersonali e le esperienze di comunicazione. Altrimenti un background in la scienza di computer è benvenuto, i nostri studenti non sono necessari di avere le esperienze di programma. Questo programma di master's degree è insegnato in inglese e ha una durata di due anni. Ogni anno è diventato in due semestri. Il plan di studi include i corsi mandatori e opzionali, un workshop opzional, una internazionata di ricerca mandatoria e una tesi. È benvenuto a menzionare che tutte le classi sono scelte solo nel campus del Politecnico di Torino per mantenere il viaggio a un minimo. Il primo anno del nostro programma ha un approccio ma chiaramente definito. Si tratta su perspectivi interdisciplinari e si concentra sull'economia e organizzazione di business, gestione pubblica, luogo, studi di media, tecnologie di informazione e la città di computer. In particolare, nel primo anno prendrai due uniti di insegnamento di introduzione all'ICT e al programma di computer in Python sia nel primo periodo del primo anno che sono pensati per aiutarti a cercare qualsiasi spazio nella vostra programma. attività del secondo anno del programma è costruito circa tre azioni di transizioni sostenibili sostenibili in particolare innovazione e dinamica urbana, manufattura e l'heritaggio digitale. Nel secondo anno prendrai anche due uniti di insegnamento che sono IOT e computazione per comunità sostenibili e comunità sostenibili sostenibili e sinergia tra queste aree nel contesto di governanza regionale e urbana. Dopo questi due corsi potrai specializzare in una di tre aree di transizione sostenibile societale sull'unità opzionale. canale anche personalizzare il tuo plan di studi per valutare due più corsi per anno da un catalogo teoretico teoretico in pratica Potrai anche avere l'opportunità di includere una ricerca di ricerca in tre crediti opzionale che focalizzano sui studi in qualsiasi tre aree di dinamica digital manufattura o heritaggio Finalmente vale menzionare che faranno un'ambiente considerabile di studi indipendente nel secondo semestre del secondo anno quando scriveranno la tesi Nel final avrai le mani necessarie le mani necessarie le mani in cui le tecnologie digitale sono imbedzate in una società e riflettere sulle le mani in applicazioni aiutano le tecnologie per innovazione Con questo programma avrai un'opportunità di lavorare in organizzazioni compagnie e NGOs lavorando nel campo di trasformazione Le implicazioni e politiche delle tecnologie di digitale sono moltissime in dati e algoritmi ma i nostri studenti sapranno come trovare i studenti compagnie con le aspettazioni di molti tipi di negozi che formano il sviluppo sostenibile e inclusivo nel contesto della transizione post-carbon più più specificamente l'experte digitale è un professionale che funziona globale in tre strade il primo è l'innovazione tecnologica per le città post-carbon con esperienza in processi di transizione e mobilità per designare strategie tecnologiche e sostenibili e soluzioni per l'ambiente intervento il secondo riguarda metodologiche e tecniche per l'industria 4.0 con esperienza nella digitalizzazione degli processi industriali predictiva mantenimento digital twin gestione integrata di sistemi di produzione e manufattura del sistema di esecuzione il terzo è il territorio con esperienza nel campo del design e gestione di soluzioni per l'analisi la rappresentazione la comunicazione e la disseminazione del territorio urbano è anche valutare che il nostro servizio di carriera ti supporta durante i tuoi studi a Politecnico possono aiutarti a trovare le opportunità di mobilità internazionali e a collegare con gli employati servizionali anche aiutarti per esplorare la complessità del mercato salvare il tempo e maximizzare le vostre emploiabilità più di 3.000 internazionali allo settore sono adattivati nel nostro database di opportunità di vacanze di carriera organizzano un'attività di eventi informazioni e sessioni ogni anno non esitare a chiedere informazioni per mandare un'essere alla mia istituzione molti grazie per l'interesse del programma in digital per transizioni sostenibili sostenibili internazionali spero te trovi presto vi 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 vi